Benvenuti ad una nuova puntata di Diritti al Punto, il talk show del Codacons. Di cosa parliamo oggi? Oggi parliamo dell'approvazione della legge sugli ecoreati e lo facciamo insieme a Gianluca Di Ascenso, avvocato e membro del collegio di presidenza del Codacons. Benvenuto. Grazie. E benvenuto anche a Stefano Ciafani, vicepresidente di Lega Ambiente. Buongiorno. E dunque questa nuova legge che cosa fa? Ha introdotto nel Codice Penale i dilitti contro l'ambiente. Di quali pene parliamo? Lo andiamo a scoprire in questo servizio. Dopo un lungo e tormentato ITER, il DDL sugli ecoreati è finalmente stato approvato in via definitiva dal Senato ed è diventato legge. Il provvedimento introduce i nuovi reati ambientali nel Codice Penale ed è passato all'esame dell'Aula con 170 voti favorevoli. In sintesi, inserisce nel Codice Penale il nuovo titolo sesto bis dei delitti contro l'ambiente, che comprende reati di inquinamento ambientale, morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale, disastro ambientale, delitti colposi contro l'ambiente, traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività, impedimento del controllo e omessa bonifica. Sono previsti inoltre un'aggravante ambientale applicabile a tutti i fatti già previsti come reato, sconti di pena per chi si adopera per il ripristino dello stato dei luoghi e il raddoppio della prescrizione per questo genere di reati. Un passo avanti decisivo che dissolve l'incubo delle mafie e apre la speranza di salvaguardare la salute dei cittadini italiani. Come avete sentito sono stati introdotti una serie di reati contro l'ambiente. Avvocato di Ascenzi, il Codacons come accoglie questa legge? Sicuramente con favore. Sono da anni che ci battiamo per questo. Ora ricordate che il Codacons, oltre ad essere un'associazione di consumatori, è anche un'associazione ambientalista per cui siamo sensibili a questi temi. Ci occupiamo dei problemi legati all'ambiente, dell'elettromagnetismo ad esempio, delle conseguenze per la salute di tutti i consumatori da oltre 14 anni. ad esempio, così come per quanto ricordo lo scandalo di Taranto, dell'Ilva, siamo intervenuti pubblicamente, quindi la sensibilità è nota al grande pubblico. Ciafani, il mondo dell'ambientalismo attende questa legge da decenni? Troppo tardi oppure ne valsa la pena? Innanzitutto, finalmente abbiamo colmato questa carenza normativa che, come abbiamo sempre ricordato, faceva classificare i reati ambientali come reati contravenzionali, reati di serie B e quindi meno gravi del furto di una mela al supermercato. Utilizzavamo sempre questa metafora per raccontare l'evidente contraddizione. Noi siamo molto felici di questa approvazione. Legambiente chiese per la prima volta l'inserimento degli ecoreati nel Codice Pianale nel 94, quando con la presentazione del primo rapporto sull'ecomafie dimostravamo come l'interesse delle organizzazioni criminali, anche mafiose, nel settore ambientale era dovuto al fatto che in questo settore si poteva guadagnare tanto senza rischiare praticamente nulla. Ecco, insomma, è passata purtroppo una generazione, una generazione di processi che sono finiti male, di colpevoli e di ecocriminali ed ecomafiosi rimasti impuniti, ma insomma dopo 21 anni possiamo dire che finalmente si chiude una pagina molto dolorosa del paese e se ne apre una nuova in cui questo non sarà più possibile. E la proposta vostra perché non fu accolta? Beh, perché questo è un paese in cui purtroppo chi ha in questo settore utilizzato il fenomeno dell'ecomafie per ridurre i costi, mi riferisco ad una parte del settore industriale, i costi aziendali, che insomma che le aziende serie hanno continuato ovviamente a internalizzare all'interno dei loro bilanci. Le aziende meno serie invece hanno scaricato sulla collettività ai costi ambientali del trattamento dei rifiuti, delle acque reflue, delle emissioni in atmosfera, scaricando sulla collettività dei costi che invece dovevano coprire loro, facendo concorrenza sleale nei confronti delle tante aziende serie che in questi 21 anni sono state al nostro fianco per ricordare che serviva a colmare questo vuoto normativo. Del resto basta vedere le dichiarazioni al vetriolo contro la legge di Confindustria delle ultime settimane, contro la legge sugli acoriati per capire chi è che in 21 anni ha lavorato contro l'inserimento dei rigati ambientali nel codice. Poi parleremo appunto delle critiche a questa legge. Di Ascenso, in Italia si è iniziato a parlare di ecomafia già dal 1982, hanno in cui è entrata in vigore la normativa sul trattamento dei rifiuti speciali. Perché il Parlamento ha aspettato tutto questo tempo? Beh l'abbiamo detto poco fa, è evidente che ci sono dei lobby che hanno saputo lavorare bene nell'ambito parlamentare, gli interessi in gioco sono notevoli, le conseguenze che abbiamo pagato noi consumatori per il ritardo del Parlamento e il legge federale sono sotto gli occhi di tutti. Vorrei ricordare lo scandalo della terra dei fuochi e che danni ha causato anche per le piccole e medie imprese, anche dell'immagine italiana a livello internazionale, non sono stati consumati dei prodotti realizzati in territori che non erano interessati direttamente, quindi c'è che danno per imprenditori che vogliono rispettare le norme, che investono in impresa, che danno la concorrenza sleale, hanno subito, portando poi dopo al fallimento imprese, è un patrimonio incredibile. Ciafania, approfondiamo di più questa vicenda, chi ha fatto comodo questa assenza normativa? Il Presidente Squinzi ha detto che la legge sugli equereati, oltre che il falso in bilancio, oltre che tutta un'altra serie di novità normative degli ultimi mesi, sono state scritte da una manina che in Parlamento è in governo e contro le imprese e che sono norme che lui fa fatica a spiegare all'estero. Ecco, insomma, c'è stata Confindustria che in questi anni ha assolutamente fatto una lotta senza quartiere contro questa legge, sia nelle precedenti legislature che in quella attuale. Insomma, noi abbiamo seguito il leader parlamentare praticamente quotidianamente, parlando anche in maniera molto ripetuta con vari parlamentari dei vari schieramenti, dei vari partiti. Abbiamo visto con i nostri occhi lavorare Confindustria per boicottare la legge. Insomma, nei quattro passaggi parlamentari in alcuni momenti c'è stato il rischio che anche in questa legislatura, questa azione di boicottaggio, avesse esito positivo. Fortunatamente questa volta Confindustria è rimasta bocca asciutta. Le imprese sane possono contare su una legge che fa pagare i loro concorrenti sleali, finalmente. E continuiamo a parlare delle critiche. Vi facciamo ascoltare questa intervista ad Angelo Bonelli, portavoce nazionale dei Verdi. Io sono assolutamente basito, sorpreso, da un voto che vedrà il partito di Silvio Berlusconi, di Alfano, che hanno sfasciato l'Italia con provvedimenti contro l'ambiente, che è l'attuale ministro dell'ambiente Galletti, che ha fatto dei provvedimenti assolutamente inaccettabili sotto il profilo dell'ambiente, approvare un disegno di legge, una legge sugli ecoreati, devo dire importantissima, che introduce il reato di disastro ambientale abusivo. Cioè, vuol dire, il disastro ambientale sarà punito solo se cagionato abusivamente. Io vorrei capire se esiste un disastro ambientale che non è abusivo. Allora, è abbastanza chiaro, e autorevoli magistrati che hanno fatto la storia della lotta contro i dati ambientali nel nostro paese, come Gianfranco Amendola, hanno lanciato un allarme chiedendo di levare quell'avverbio. Lo mantengono perché in questa maniera quell'avverbio garantisce l'industria inquinante nel nostro paese a poter proseguire senza essere sottoposta a inchiesta. Sa perché? Perché esercitano in nome di un'autorizzazione dello Stato. Abusivo, infatti, significa in assenza di un titolo amministrativo. Io ho lanciato, come dire, un garbato appello a Grillo, mi rivolgo a lui, non mi sono rivolti a altri, devo dire, dovrebbe apprezzare questo. Ho avuto una risposta, devo dire, francamente incredibile. Mi si dice che l'avverbio abusivamente è un problema secondario. No, non è un problema secondario, è il problema dei problemi. Se è un problema secondario, per quale motivo non è stato levato questo avverbio? In realtà, quell'avverbio serve proprio per impedire che i magistrati possano aprire inchieste e devo dire che se domani dei magistrati, una volta approvata questa legge, dovessero aprire inchieste come quella dell'ILVA di Taranto, non lo potrebbero fare perché molte di quelle industrie, come l'ILVA ad esempio, esercitavano e esercitano in nome di un'autorizzazione dello Stato. E avete sentito Bonelli, questa legge che cosa ha fatto? Ha introdotto il reato di disastro ambientale abusivo, cioè punibile solo, abusivamente. In sostanza è punibile solo se vengono violati i limiti imposti dal codice ambientale. Ciafani, come risponde a queste critiche di Bonelli? Bonelli dice diverse cose inesatte nella sua intervista. Innanzitutto il partito di Berlusconi ha sempre votato contro in Parlamento, in tutte e quattro le votazioni, in quattro passaggi parlamentari. La polemica sul termine abusivamente. Le Gambiente non risponde a Bonelli. È la Corte di Cassazione che risponde ad Angelo Bonelli perché nella relazione sulla legge sui ecoriati, che è l'ufficio del massimario della Corte di Cassazione, quindi l'ufficio che fa l'analisi puntuale della giurisprudenza e anche delle nuove norme, che è stata pubblicata il 29 maggio, quindi il giorno in cui la legge sui ecoriati è entrata in vigore, è una relazione di 36 pagine, 6 pagine dei quali sono dedicate al termine abusivamente, che è stato più volte discusso in queste settimane, c'è stata una polemica innescata da Gianfranco Amendola che il leader dei Verdi, Angelo Bonelli, ha ripreso in maniera continuativa. L'ufficio del massimario della Corte di Cassazione spiega l'esatto contrario di quello che diceva Angelo Bonelli, abusivamente il disastro ambientale e l'inquinamento ambientale, i due delitti che contengono la parola abusivamente, secondo la Corte di Cassazione si possono contestare anche alle aziende che hanno avuto una regolare autorizzazione, perché non basta essere autorizzati per non poter incorrere nella nuova legge sui ecoriati, del resto questa è una cosa che era stata già, è una polemica, mi viene di dire un aggettivo sterile, che era stata già fatta nel 2001, quando fu inserito il primo delitto ambientale della normativa italiana, quello di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, che diceva allora chiunque gestisce abusivamente ingenti quantitivi di rifiuti, allora le stesse voci fecero la stessa polemica, dopodiché noi dicemmo la Cassazione specificherà che cosa vorrà dire abusivamente, ci sono le sentenze di Cassazione che sono riportate anche in questa relazione, che dicono esplicitamente che anti-aziende che gestivano con autorizzazione abusivamente degli ingenti quantitivi di rifiuti, sono state oggetto di indagine e è stato utilizzato quel delitto che è stato in 14 anni, dal 2001 al 2015, utilizzato in 220 indagini, che hanno permesso di emettere 1500 ordinanze di costrata cautelare contro i traficanti di rifiuti, quindi francamente si sta scatenando tutta una polemica su una parola che, ripeto, non la lega ambiente ma la Corte di Cassazione ha specificato bene che non è un problema, serve per ampliare il raggio di azione delle leggi, tant'è vero che Confindustria in un documento che ha presentato in Senato nello scorso settembre critica pesantemente questa parola proprio perché la ritiene troppo ampia e non più restrittiva invece come si sta dicendo da qualche settimana a questa parte. Vi ascenza, abbiamo ascoltato che la Corte di Cassazione ha scritto 6 pagine per definire il termine abusivo, cosa vuole aggiungere lei? Siamo d'accordo ovviamente con quanto i giudici della Suprema Corte hanno evidenziato, la preoccupazione che abbiamo un po' tutti quanti è che quella poi dopo, quando si tratta di applicare le norme, quando si aprono i processi, vengano trovati degli escamotaggi, dei cavilli, delle maglie, della normativa per evitare poi dopo di arrivare a condanna. Il rischio però politico secondo noi che a volte per cercare di far uscire un testo di legge perfetto e inattaccabile si corrono, si trascorrono vent'anni prima di arrivare ad una norma e quindi il dibattito legittimo, il confronto assolutamente legittimo tra l'opinione del procuratore Amendola conosciuto da tutti quanti come un paladino contro i reati ambientali, contro i diritti contro l'ambiente, porti poi dopo all'immobilità, all'immobilismo e quindi si fa il gioco di chi vuole approfittare dell'inerzia del Parlamento, approfittando il succedersi delle legislature e quindi come abbiamo detto all'inizio di questo nostro incontro sono vent'anni che discutiamo su questo e finalmente questo governo è riuscito a svincolarsi al peso di Confindustria che sicuramente influisce sul legislatore. Vorrei ricordare proprio di ieri la buona notizia, un'altra volta Confindustria è stata sconfitta perché la Camera ha approvato la riforma legge sulla class action, aspettiamo che passi al Senato, però è evidente che questo Parlamento è molto sensibile a delle istanze che vengono dalla base, dalle associazioni che rappresentano i consumatori, i cittadini e gli utenti, quindi speriamo che poi dopo con i fatti chi oggi critica questo è anche l'utilizzo di alcuni avverbi che potrebbero sembrare generici in realtà poi dopo contribuiranno ad assicurare alle padrie galerie chi in questi anni ha danneggiato l'economia e la salute di noi cittadini. E continuiamo ad andare avanti con il nostro dibattito, come sapete molti di voi chiedono la chiusura appunto dell'Ilva di Taranto oppure la centrale termoelettrica a carbone di Civitavecchia e in merito a quest'ultima centrale andiamo a vedere questo servizio. La questione della centrale Enel di Torre Valdaliga Nord a Civitavecchia continua ad essere avvolta da un silenzio assordante. Solo il Codacons infatti si sta battendo per l'annullamento di un'autorizzazione integrata ambientale che l'associazione giudica non a norma di legge. Non c'è bisogno di ampliare una centrale che è già ridondante rispetto alla necessità, non c'è bisogno di ampliarla utilizzando una tecnologia così sporca quanto è quella del carbone. L'ormai famigerata AIA ha infatti permesso a Enel di non adottare integralmente le migliori tecnologie disponibili previste dall'Unione Europea e ritoccare il limite di funzionamento della centrale al massimo carico, portandolo a 312 giorni l'anno. Inoltre ha autorizzato il colosso energetico a bruciare circa un milione di tonnellate di carbone in più rispetto a quanto previsto dalla valutazione di impatto ambientale del 2003. Un combustibile che vanta, si fa per dire, una percentuale di zolfo fino a tre volte superiore rispetto a quella consentita dal piano regionale di qualità dell'aria. L'Enel qui ha motivato che serve questo ampliamento della centrale per aumentare la produzione di energia elettrica, però nello stesso tempo ha ottenuto 54 milioni dallo Stato italiano per direttiva dell'Unione Europea perché la produzione elettrica che è stata prodotta nell'ultimo anno non è stata consumata. Tutti buoni motivi, secondo il Kodakons, per ricorrere di fronte al Tar del Lazio. Il nostro obiettivo è quello di diminuire la quantità di carbone che viene combusto nella centrale di Civitavecchia, di diminuire quindi l'inquinamento, diminuire la mortalità nella vostra città. L'iniziativa dell'Associazione è stata premiata dallo stesso Tribunale che nel luglio 2014 ha disposto verifiche su carbone, radiazioni e monossido di carbonio, ovvero indagini atti a tutelare la salute dei cittadini e verificare il rispetto delle norme vigenti. È proprio per appurare la concentrazione dei microinquinanti potenzialmente pericolosi emettibili dalla combustione del carbone. Se tali emissioni superano i valori limite stabiliti per l'impianto in esame, verificare la concentrazione delle radiazioni ionizzanti emesse dal carbone utilizzato nella centrale e quindi l'eventuale superamento del limite di esposizione per la popolazione e per i lavoratori dell'impianto, verificare la concentrazione giornaliera per il monossido di carbonio che gli ispettori del Codacons hanno partecipato ai primi accertamenti all'interno della centrale, su cui si baserà la sentenza conclusiva. Allora oggi abbiamo iniziato a controllare la quantità di olio combustibile denso rimasta nella centrale, che è rimasta come se fosse, ce ne sono mille tonnellate, è rimasta come se fosse un rifiuto speciale. Ovviamente è solo il primo passo, da questo passo poi muoveremo per avanzare delle obiezioni sullo smaltimento di questo combustibile che è molto pericoloso dal punto di vista ambientale. Per il risultato del ricorso bisognerà attendere i tempi, speriamo celeri, della giustizia. Ma intanto, e almeno, qualcuno ha potuto mettere il naso nella gigantesca e silente struttura, che i turisti intravedono già dal mare, arrivando a Civitavecchia. Di Ascenzo, qual è la posizione del Codacons su questa centrale? Come abbiamo visto nel servizio siamo stati costretti a rivolgerci al Tar del Lazio, noi abbiamo chiesto ad Enel degli incontri, dobbiamo dare atto che questi incontri ci sono stati per fare il punto della situazione. Abbiamo mostrato delle contestazioni che Enel evidentemente non ha condiviso e quindi ci siamo rivolti al Tar. Il procedimento, come è stato detto giustamente, è ancora in corso. A breve ci dovrebbe essere l'udienza di merito che dovrebbe mettere la parola alla fine per quanto riguarda il procedimento dinanzi al Tar Lazio. Nel filmato abbiamo visto l'esito nell'ordinanza istruttoria che, a nostro avviso, è stato un grande successo perché, come è stato detto, la centrale ha ottenuto tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente e noi abbiamo posto un problema sostanziale di merito, cioè abbiamo chiesto di verificare se effettivamente ci siano degli effetti nocivi per la salute di tutti gli abitanti che vivono, anche per i lavoratori della centrale che sappiamo che sono molto sensibili a queste problematiche. Confidiamo nel giudizio, quindi speriamo che il Tar Lazio ha certi se effettivamente noi speriamo che non ci siano effetti noci per la salute, insomma che sembra un po' retorico, però la preoccupazione l'abbiamo e ci siamo sentiti in dovere di rivolgerci alla magistratura. Qual è stata invece la posizione di lega ambiente sulla centrale? Beh, questa è stata la prima centrale, grande centrale ad olio combustibile riconvertita a carbone negli ultimi 10-15 anni e anche lega ambiente con tante altre associazioni si è battuta contro questo progetto di riconversione. Contestavamo per tanti motivi, il primo dei quali è che si andava a riconvertire una centrale al pregiore dei combustibili fossili, il carbone, quello peggiore sotto tutti i punti di vista ha maggior ragione quello ambientale anche per i suoi impatti relativi ai cambiamenti climatici perché è la fonte che mette maggiore anidride carbonica rispetto a tutte le altre fonti. Devo dire che questo è un investimento dell'altro secolo perché fortunatamente negli ultimi 10 anni in Italia il sistema energetico è cambiato radicalmente, negli ultimi mesi possiamo contare il 40% di elettricità prodotta da fonti rinnovabili e solo il 60% resta da fonte fossile. Fino a 10 anni fa potevamo contare solo su quel 15% di energia da fonti rinnovabili che era prodotta dalle centrali idroelettriche costruite due generazioni fa. Oggi grazie a questo aumento importante delle rinnovabili non c'è più bisogno di progetti come quello, tanto è vero che Enel ha deciso di non riconvertire più la centrale di Portotolle in provincia di Rovigo sul delta del Po che era una centrale per certi versi gemella a quella di Citevecchia, un progetto gemello che da olio combustibile sarebbe dovuto diventare a carbone e fortunatamente quell'impianto non verrà riconvertito perché non c'è più spazio nel settore elettrico italiano per kilowattora prodotti da fonti fossili perché nel frattempo le rinnovabili continuano ad aumentare nonostante l'ostracismo delle grandi lobby energetiche ma continua ad aumentare e insomma e quindi fortunatamente non avremo più casi di questo tipo. Certo c'è da affrontare il tema di Civitavecchia, di Brindisi, tutte le altre centrali che ancora continuano a funzionare con vecchie autorizzazioni o con nuove che possono essere contestate ma insomma lentamente stiamo entrando nella nuova era della rivoluzione energetica. Finalmente. Finalmente. Allora introduciamo in questo dibattito un po' di dati. Dovete sapere che Civitavecchia è tra le prime città in Italia per mortalità tumorale. Dalla valutazione redatta dal Servizio Sanitario Regionale del Lazio nel periodo 2006-2010 che cosa è emerso? È emerso che la popolazione residente nel comune presenta un quadro di mortalità per cause naturali e per tumori maligni in eccesso di circa il 10% rispetto al resto della popolazione residente nella regione. Ciafani, un dato drammatico. Com'è possibile che la legge consenta una situazione del genere? Beh insomma i dati epidemiologici di oggi sono purtroppo il risultato di tanti anni, di decenni di politiche o assenti perché non c'erano neanche le leggi, le prime leggi sull'inquinamento atmosferico sono alla fine degli anni 80 o perché non c'è stato l'adeguato controllo nei confronti di impianti impattanti. Civitavecchia ha sede di due grandi centrali termoelettriche Torri Vardalica Nord e Torri Vardalica Sud. Poco distante c'è un'altra grande centrale che era quella di Montalto di Castro. A Civitavecchia c'è un porto molto importante che è un'altra fonte di inquinamento atmosferico molto rilevante. Insomma ci sono diverse fonti di inquinamento in quella zona che purtroppo poi sembrano non causare risultati immediati ma poi grazie anche agli studi epidemiologici degli ultimi 10-15 anni. Oggi purtroppo dobbiamo contare anche i numeri dei danni sanitari prodotti dai grandi danni ambientali prodotti nel passato. Questi numeri speriamo possano, sicuramente non saneranno le ferite o addirittura le perdite di vita del passato ma speriamo che possano far diventare sempre più consapevoli non solo i cittadini che solo sono sempre di più sui danni ambientali e sanitari di questi grandi impianti inquinanti ma devono rendere sempre più consapevoli anche le istituzioni che devono assolutamente voltare pagina rispetto a sistemi industriali o sistemi produttivi o sistemi di produzione di elettricità assolutamente desueti soprattutto perché oggi ci sono alternative molto meno impattate. Ritorniamo alla posizione di Confindustria. Abbiamo detto che è contraria alla legge. Che cosa aveva proposto invece Confindustria? Beh diciamo aveva previsto una serie di modifiche che avrebbero anestetizzato assolutamente il provvedimento. Chiedeva la non punibilità per i reati colposi in caso di bonifica, prevedeva che diventassero delitti solo i reati dolosi e non quelli colposi e quindi sostanzialmente sarebbe stato come non avere i delitti ambientali. Tutta una serie di modifiche che sono diciamo agli atti del Parlamento perché sono state proposte di emendamento presentate, tra l'altro presentate anche da alcuni parlamentari soprattutto di Forza Italia e della Lega che hanno contrastato il provvedimento in tutti e quattro i passaggi. Ecco insomma era una serie di norme che non anacquavano ma sostanzialmente uccidevano il provvedimento. Concordo con quanto si diceva prima, questo è un Parlamento che è un periodo particolare, c'è una congiunzione astrale che sta portando finalmente per la presenza di nuove forze in Parlamento, per un governo strano come quello attuale, sta portando all'approvazione di alcune leggi che erano rimaste ferme per tanto tempo e che pure non si erano ancora manifestate nella loro importanza in Parlamento, mentre fuori dal Parlamento lo erano già. Confindusa ha perso 5-0 in questa legislatura sugli acoriati, noi siamo ben felici di poter cantare vittoria tutti insieme, tutti i cittadini e tutto il popolo inquinato. Utilizza lo stesso linguaggio di Renzi lei. Di Ascenzo, parlando appunto delle grandi industrie, c'è chi dice in Italia è possibile inquinare a norma di legge perché appunto il legislatore aumenta assurdamente questi livelli di diossino, queste persone hanno ragione oppure no? Noi sollecitiamo la magistratura, parliamo prima dell'allungamento dei termini di prescrizione che ha consentito purtroppo sentenze che rappresentano una ferita per il nostro paese, reati che non hanno visto ottenere giustizia alle vittime degli stessi perché il codice menale era strutturato in modo tale che consentiva l'impunità, quindi non ci piace dare questa immagine all'estero soprattutto perché noi ci consideriamo la patria del diritto e troppo spesso l'Italia è arrivata in ritardo. Vorrei raccontare un episodio, insomma, si parla della giornata europea del consumatore che è il 15 marzo di ogni anno, non tutti sanno che si è scelta questa data perché nel 1962 il Presidente Kennedy, in un discorso davanti al Congresso, parlò per la prima volta di quattro diritti fondamentali dei consumatori. Ebbene, era il 1962 la legge italiana che ha riconosciuto come fondamentali i diritti del consumatore del 1998. Quindi, come vediamo, l'Europa è arrivata un pochino prima, negli anni 70 si è parlato di diritti dei consumatori, quindi se un tema che potrebbe sembrare banale rispetto a quelli che stiamo affrontando oggi perché la condanna dell'ecomafia e degli reati, abbiamo visto le vittime che purtroppo sono numerosissime, però dobbiamo approfittare di questa congiuntura astrale, favorevole, per far sì che il nostro Paese dimostri a livello internazionale che siamo veramente la patria del diritto e che l'impunità che oggi consente in tutti e in diversi settori, da quelli economici a quelli ambientali, non ci appartiene più. Ciafani, siamo in chiusura, la regia mi indica che abbiamo davvero pochi minuti, cos'altro vuole aggiungere? Ma insomma, questa è una norma rivoluzionaria, trasforma i reati ambientali da serie B a serie A, si possono fare intercettazioni telefoniche ambientali adesso, si possono fare gli arresti in flagranza, si possono fare l'erogatore internazionale, i tempi di prescrizione si raddoppiano finalmente, ci sono gli aggravanti per ecomafia, ci sono gli aggravanti ambientali, ci sono gli confisca anche per equivalente in caso di condanno o patteggiamento, ci si continua a fare l'analisi grammaticale con queste polemiche sull'avverbi piuttosto che sull'aggettivo, si dovrebbe leggere per intero la norma, perché è veramente una norma rivoluzionaria, ci abbiamo impiegato purtroppo 21 anni, ma oggi l'Italia diventa sulla tutela penale dell'ambiente un Paese all'avanguardia a livello internazionale, siamo stati la vergogna per 21 anni a livello internazionale, oggi con questa norma diventiamo un fiore all'occhiello e un esempio da seguire, insomma quindi basta con l'analisi grammaticale, forse è il caso di leggersela con un po' più di calma e vedere le tante cose positive che ci sono in questa legge rivoluzionaria. Una legge approvata dopo 21 anni, bene, si conclude qui questa puntata dedicata agli ecoreati, ringrazio e saluto i nostri ospiti e ringrazio anche voi per averci seguito, alla prossima! Grazie!